E adesso, care amiche e cari amici, parliamo di streghe, di streghe nell'arte con Chiara Spinnato, che però non è una strega. Forse, buonasera. Lei produce delle mostre molto belle, è la titolare di Vertigo Sindrome e ha prodotto anche una mostra proprio su di loro, sulle streghe, sulle sovversive della storia. Guardate un po'. Stregherie, iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia a Bologna fino al 16 giugno nelle splendide sale del quattrocentesco Palazzo Pallavicini. Si ricostruisce così una cultura dispersa e oppressa, ma che risorge continuamente partendo dalle sue origini. Per la prima volta a Bologna, una vastissima collezione di trattati, di magia occulta, fetiche e strumenti rituali è in mostra per raccontare ed evocare i riti, le storie e il folklore delle streghe, con una sezione speciale su Gentile Budrioli. La strega enormissima di Bologna, curata dal drammaturco, performer ed esperto di esoterismo Lucas Carlini. Questa esposizione di straordinaria bellezza visiva unisce oscene incisioni antiche, inquietanti opere d'arte contemporanea, testi cinquecenteschi maledetti e talismani storici, per spalancare una finestra sul mondo arcano e sulla figura affascinante della strega. Quest'ultime non sono state additate e perseguitate soltanto nei periodi più bui della nostra storia. Infatti, ancora oggi in molti paesi del mondo, l'accusa di stregoneria è tristemente viva e miete ancora le sue vittime. I social stessi testimoniano un ritorno massiccio ai riti della wicca e alla stregoneria bianca, anche se spesso vissuti superficialmente sottovalutandone i poteri antichi. In occasione di questa esposizione, il Museo delle Civiltà di Roma ha aperto il suo incredibile cavo, nel quale, tra le tante cose, è conservata un'incredibile collezione di amuleti, oggetti provenienti da diverse regioni d'Italia, realizzati in vari manufatti oltre due secoli fa. Tra i più incredibili si segnala la famosa carta manoscritta trovata alla sua morte nello scapolare della strega Conti in Toscana, databile intorno alla fine dell'Ottocento. Chiara, tu produci mostre come quella che abbiamo appena visto. Come ti sei avvicinata a questa professione? Sono 20 anni che faccio questo lavoro, quindi io ho studiato storia dell'arte e sono un'appassionata delle mostre in generale. Si capisce dal tuo sguardo? Davvero? Ma due anni fa ho preso questa decisione di creare una società mia, quindi ho fatto un gesto folle, ho venduto casa mia e con questo ho deciso di avere, diciamo, le risorse per creare una nuova attività. Davvero imprenditrice, quindi? Si, proprio di quelli matti. Con me al mio fianco c'è Filippo Giunti che invece è un pubblicitario, quindi l'idea è quella di creare delle mostre un po' diverse. Infatti Vertigo Syndrome ha un motto che è quello di essere una crociata contro l'uggia delle mostre d'arte. Le trovi molto uggiose? Si. Abbiamo anche un commento audio, eh? Ecco. La nostra legge è d'accordo allora. È d'accordo. Io stessa mi sono accorta che iniziavo ad annoiarmi a fare le mostre che ideavo e producevo. Cioè noi organizzatori di mostre tendiamo poi un po' a lavorare come giusto che sia, come se fosse un'industria, però essendo molto ripetitivi e secondo me si seguono degli schemi che sono molto simili a se stessi. In che cosa è diversa questa mostra sulle streghe? Innanzitutto per il tema. Io penso che altri organizzatori non l'avrebbero mai affrontato. Perché? Dà fastidio a molti come tema, quindi non è facile anche essere ospitati. C'è ancora un tabù sulle streghe? Sì. Io pensavo di no. Luca Scarlini, il nostro curatore, mi diceva che vedrai che sarà difficile, io sempre ottimista, invece è difficile. Alcuni spazi non vogliono ospitare una mostra come questa. Il pubblico come sta rispondendo? Il pubblico è totalmente diviso in due fazioni. Abbiamo proprio due fazioni di totali innamorati di questa mostra che escono in lacrime, emozionatissime e persone che ci detestano e detestano la mostra perché tocca dei temi molto molto sensibili per un certo tipo di pubblico che io non ho mai incontrato nell'organizzazione di mostri. Cioè non è il pubblico classico delle mostre d'arte. Quindi persone che praticano la wicca, come dicevate, persone che insomma si aspettano delle cose. Ricordiamo che cos'è la wicca? È una sorta di religione moderna oramai dedicata proprio al culto della stregoneria. Qual è l'oggetto che ti ha più sorpresa in mostra? Io penso quello che avete citato, lo scapolare della strega Conti. Non lo conoscevo, è un prestito eccezionale che abbiamo avuto dal Museo della Civiltà di Roma. Fino all'ultimo non ce lo potevano prestare per questioni conservative e invece grazie anche alla loro collaborazione è stato esposto in maniera particolare questo cartiglio che è stato trovato nello scapolare appunto di una donna che era ritenuta una strega. Tu hai affermato che i visitatori delle vostre mostre hanno il diritto di essere impreparati. Cosa vuol dire esattamente? In tanti anni io quello che ho sempre visto è che quando noi organizziamo una mostra, noi organizzatori abbiamo al nostro fianco sempre uno storico dell'arte o comunque un esperto, il nostro curatore, quello che si tende a fare, io stessa anche che è il mio mondo, pensiamo di parlare a persone che fanno parte del nostro mondo e quindi usiamo lo stesso linguaggio, pensiamo che loro sappiano delle cose, ci abbiamo per scontato tutto questo ed è inevitabile che allontaniamo un altro tipo di pubblico. C'è anche un certo snobbismo di fondo in alcuni casi. Molto, molto. Io ho visto che questa affermazione che noi facciamo sono state fortemente contrastate da persone che io conosco, con cui lavoro da tanti anni, cioè il fatto di volersi, tanti lo dicono, ma farlo poi così con una dichiarazione così esplicita non piace. Noi diciamo sempre che per far capire quando pensiamo una mostra ci sforziamo di pensare non a te Cesare che stai venendo e hai deciso di vedere la mostra, ma alla persona che ti deve accompagnare. Quindi quella che era seduta sul divano e voleva vedere Netflix. Quindi noi dobbiamo non tanto erudire quella persona, ma farla uscire con la voglia di saperne di più. Il vostro grido di battaglia è mostra, non spiegare. Sì, poi in realtà noi spieghiamo e abbiamo molti l'attenzione a raccontare quello che abbiamo al nostro interno, ma quello che noi cerchiamo di non fare sono ad esempio i muri di testo. Cioè tu entri in una mostra e spesso trovi questi pannelli fittissimi, piccolissimi, dove viene spiegato tutto, ma non è questa la sede. Cioè la mostra non è un libro, la mostra è un'esperienza che tu fai. Quindi, ripeto, meglio dire qualcosa in meno e uscire con la voglia di saperne di più. Vi siete occupati anche di mostri giapponesi. Sì. Guardate un po'. La mostra Yokai, mostri, spiriti e altre inquietudini nelle stampe giapponesi, arriva a Firenze dal 13 giugno al 3 novembre 2024 negli spazi espositivi del Museo degli Innocenti per presentare al pubblico il fantastico mondo dei mostri della tradizione nipponica, attraverso più di 150 opere del XVIII e XIX secolo, tra stampe antiche, libri rari, maschere, armi e armature in prestito dal Museo Stibar di Firenze. Accusa di Paola Scrolavezza, tra le massime esperte di Giappone in Italia, e di Eddie Vertheim, direttore della Japanese Gallery Kensington di Londra. La mostra si apre con una sala immersiva che fa rivivere al visitatore l'esperienza della più leggendaria prova di coraggio dei samurai, il rituale delle cento candele. Rituale che iniziava dopo l'ora del tramonto e vedeva i samurai riunirsi in una stanza illuminata dalla luce di cento candele. Ognuno di loro doveva raccontare ai compagni una storia popolata di yokai, i mostri giapponesi appunto, con l'obiettivo di testare il loro coraggio spaventandoli a morte. Se poi nella sezione trepidazione, viaggiare con la fantasia, ci si imbatte nello sterminio dei demoni da parte di Momotaro, opera attribuita a Katsushika Okusai o alla sua scuola. Dalla serie mai completata di Katsushika Okusai 100 storie di fantasmi proviene invece la celebre stampa. Il ghigno della donna demone, in cui il maestro nipponico riprende un'antica leggenda buddista che racconta di Ariti, una crudele e terrificante orchestra decisa a mangiare tutti i bambini della città di Raigir, in India. I personaggi fantasma erano molto presenti pure nelle rappresentazioni del teatro tradizionale giapponese Kabuki e gli artisti delle xilografie si ispirarono proprio ai drammi teatrali per immoltalarli in molte delle loro opere. Non a caso c'è anche una sala a disposizione intitolata a teatro per esorcizzare le paure, provare per credere. Chiara, perché hai deciso di produrre questa mostra? Perché non è una mostra solo di opere d'arte, quindi è un tema che ci permette di parlare di arte e di storia dell'arte con grandi artisti, perché abbiamo Kusai, Utamaro, abbiamo tutti i grandi nomi della storia dell'arte antica giapponese, ma ci permette di collegarci innanzitutto con il contemporaneo. In questo caso nella mostra di Firenze avremo anche dei manga, quindi avremo Dragon Ball, i Pokémon, quindi sempre per il discorso che facevamo riusciamo ad avvicinare anche chi magari di Okusai non ne sa nulla, ma sa tutto dei Pokémon, ad esempio, ma è anche una mostra che è ricca di leggende e di storie ed è quello che a noi piace molto fare. Cioè la nostra interpretazione della mostra immersiva è opere d'arte reali, vere, fisiche, in mostra, ma con un'immersione che strizza l'occhiolino al teatro. Quindi le nostre sale immersive sono delle esperienze teatrali, non abbiamo le audioguide, ma abbiamo dei racconti all'interno della mostra. Questo piace tantissimo, non piace per nulla, ma... È il vostro stile. È il nostro stile. L'idea, questo devo dire merito di Filippo che mi ha spinto verso questo, il mio socio, è o piaci molto o non piaci per nulla, accontentare tutti non si può. E quindi entrando nelle sale si ascoltano dei racconti, alcune persone da fastidio, molte invece rimangono molto emozionate. La Sala delle Cento Candele in questo caso interpreta... È sorprendente. Sì, sì. Interpreta un rituale che realmente accadeva, però lo fa rivivere. Quindi non è semplicemente la videoproiezione che dà... Cioè quello che noi non vogliamo fare è realizzare delle sale immersive che siano solo videoproiezioni. Ecco, per noi è solo videoproiezione. Invece la videoproiezione deve essere a servizio di un'emozione, appunto, ripeto, simile a quella del teatro. E adesso noi andiamo a vedere un'altra vostra mostra, la nuova onda delle stampe giapponesi. Con l'aiuto di scatti, video e riviste d'epoca, abiti femminili che ricordano la tradizione giapponese, ma nei quali già si intravede l'influenza modernizzatrice d'oltreoceano. Shinanga, la nuova onda delle stampe giapponesi, ricrea a Torino, a Palazzo Barolo, fino al 30 di giugno, l'atmosfera densa di aspettative e nostalgia di inizio novecento, presentando al pubblico un'incredibile corrente artistica ancora sconosciuta in Italia, che dipinge un nuovo spaccato, vivido e intenso del Giappone tra le due guerre. Dalle stampe dominate dai toni più cupi del blu, dove l'unica nota di luce è la luna, alle marine bagnate dal sole al tramonto dalla luce delle lanterne delle imbarcazioni, fino alle pagode che svettano sui ciliegi in piena fioritura. Quello che viene alla luce è un paesaggio ideale, emozionale e simbolico, uno sfondo sul quale spiccano le silhouette femminili, icone malinconiche e inquiete della conquista della modernità. Le ragazze immortalate nelle illustrazioni non soltanto sono donne comuni, ma iniziano a muoversi anche al di fuori delle mura domestiche, nelle vie o nei locali dei quartieri alla moda. Sono cameriere, insegnanti, infermiere e dattilografe, giovani indipendenti e istruite, emancipate, pronte a cogliere le numerose opportunità che il nuovo Giappone offre loro. Dopo il grande terremoto del canto del 1 settembre 1923, il peggiore nella storia del Giappone che causò oltre 100.000 morti e rase completamente al suolo una vasta area attorno alla capitale. Tutto nelle xilografie prodotte dopo il disastro racconta il senso di smarrimento e la solitudine dell'individuo di fronte alla fragilità dell'esistenza, ma anche la rinascita dalle ceneri di una nuova Tokyo, sempre più proiettata verso il futuro e con lei una società all'avanguardia e aperta allo stile di vita occidentale. Chiara, tre buoni motivi per visitare questa mostra? Innanzitutto è la prima volta in Italia, non è mai stata realizzata prima questa mostra, quindi non possiamo parlare di mostre itineranti in questo caso. È stata anche una scelta coraggiosa, perché siamo andati a fare, ad indagare un tema che le persone non conoscono. Tu ami le rischio? Sì, ogni tanto vorrei non amarlo così tanto. Comunque sì, eravamo un po' stufi delle solite mostre sull'Ukioe, quindi l'idea era quella di indagare un qualche cosa dopo. Questo è esattamente il movimento successivo in ordine cronologico all'Ukioe, quindi siamo nei primi anni del Novecento. L'altro motivo è perché si vedono opere che non si possono vedere in un altro modo, perché sono tutte collezioni private, sia italiane ma anche inglesi, la Japanese Gallery Kensington di Londra e collezioni giapponesi. Quindi, diciamo, finita la mostra, queste opere non si potranno più ammirare. È esattamente la congiunzione, cioè tanti visitatori ce lo dicono, ed era questo l'obiettivo, la congiunzione con quello che poi ci fa arrivare al manga, cioè vedendo queste opere si capisce come mai ci siamo arrivati. Quindi ci si riconosce di più ed è un Giappone diverso da quello che noi ci siamo immaginati. Abbiamo scelto delle musiche dell'epoca, dei video d'epoca, che escono un po' dalla nostra idea di Giappone, quella un pochino più stereotipata del periodo Edo. Tu sei appassionata di cani? Sì, decisamente. E' anche un cane, vero? Peter, sì. Noi adesso ci occupiamo di dog photography. Guardate un po'. La dog photography, la fotografia di animali domestici specializzata in cani, risale addirittura a metà ottocento, ai tempi dei grandi documentaristi di specie selvatiche come William Fox Talbot. Negli anni 60, con l'evoluzione delle tecniche fotografiche e dei mezzi, alcuni fotografi iniziarono a offrire veri e propri servizi fotografici per animali domestici. Se un tempo questi servizi erano a pannaggio esclusivo degli aristocratici o delle star di Hollywood, oggi la situazione è cambiata. La fotografia cinofila è diventata una professione curiosa e sempre più popolare all'interno della sua nicchia di mercato. Rivolgersi a un fotografo professionista, per i propri amici, a quattro zampe, è una scelta sempre più attuale e diffusa. Oggi, infatti, un nucleo familiare su tre possiede un cane e la probabilità di chiamare un fotografo specializzato in cani è in netta crescita. Si tratta di un settore specifico, con regole tecniche, clienti e sbocchi commerciali propri. Tra i professionisti di questo campo spicca Mattia Gorno, nato a Varese nel 1977. L'arrivo di un cucciolo di Labrador nella sua famiglia ha acceso in lui una passione per la fotografia cinofila, trasformando il suo modo di vedere la fotografia. Gorno è oggi orgoglioso di vedere le sue fotografie pubblicate su riviste di settore sia in Italia che all'estero, come Quattro Zampe, Pet Family e Partner Hand. E siamo ora collegati proprio con Mattia Gorno, collegato con noi da Prunaro, in provincia di Bologna. Buonasera Mattia. Buonasera, ciao a tutti, un saluto a tutti i vostri telespettatori. So che non sei solo però. Non sono solo. Ho portato un'allegra compagnia. Fai venire Yucca? Arriva eh. Una piccola brigata diciamo. Sì, una piccola brigata. Alla poi anche accompagnare. Si stanno facendo desiderare come le star naturalmente. Dai Yucca. Eccoci. Eccoci. Chi abbiamo qui? Allora qui abbiamo Yucca, un giovane border collie, anzi una giovane border collie, con cui lavoro spesso e facciamo un sacco di attività insieme. Lei è molto brava, ha un'ottima capacità di concentrazione e fa anche un sacco di attività sportive, perché fa agility dog ed è veramente super veloce. Come si diventa dog photographer, quindi fotografo di cani? Allora ci vuole innanzitutto tanta pazienza, perché questo è un genere fotografico che ovviamente richiede un allineamento con le tempizze dei soggetti che non sempre sono le stesse del fotografo, anzi la maggior parte delle volte il fotografo è molto frettoloso nel lavorare, quindi cerca di organizzare tutto per metterci meno tempo possibile, in realtà in questo caso noi dobbiamo prenderci il giusto tempo che serve al cane per ambientarsi, per capire cosa gli stiamo chiedendo, quindi il cane deve mostrarci le sue attitudini senza nessun tipo di imposizione e questo quindi allunga in molti casi anche i tempi di ripresa, i tempi in cui si gestisce un set. Però si possono fare un sacco di cose e quindi bisogna avere una grande capacità di pazienza a capire cosa sa fare un cane, quali sono le sue attitudini e poi ci sono anche tante competenze da mettere in campo, perché comunque la dog photography ci permette di lavorare sia in situazioni che hanno magari alta dinamicità, quindi situazioni di ripresa in ambito sportivo, agility dog, disc dog e altre attività anche in acqua, sia nella ritrattistica, quindi bisogna avere un'ottima capacità di gestire una buona inquadratura del ritratto per valorizzare le linee del cane. In realtà ti stai divertendo un sacco e in realtà quindi ci sono tante competenze tecniche da mettere in pratica, da imparare e tanta sperimentazione. Mattia, come ti sei avvicinato a questo genere fotografico? Allora, io mi sono avvicinato otto anni fa quando è arrivato Achille, il mio cane, e ovviamente Achille da cucciolo era spettacolare perché è un labrador al cioccolato, per cui ho subito iniziato a lavorare con la mia macchina fotografica per cercare di fargli qualche bel ritratto, qualche bella foto. Ovviamente non ci sono riuscito perché non avevo ancora mestiere per capire cosa dovevo fare, ma piano piano con l'esperienza, insomma con lo studio e attraverso anche l'aiuto di un sacco di aiutanti come Yucca e Glitch che tra poco arriveranno, ho capito che cosa dovevo fare, quindi quali erano un pochino le richieste che potevo fare e come potevo gestire tutte le tempistiche, come abbiamo detto prima, di scatto per avere il cane a disposizione per qualche secondo. Quindi ho capito come richiamare la loro attenzione, come permettere ai cani di esprimersi senza dovergli causare uno stato di sofferenza o di malumore, chiamiamolo così, perché anche loro mostrano quando posano che cosa stanno provando, quindi se si divertono in foto si vede, ok? Raccontiamo qualche scatto, per esempio il numero 2 per la nostra regia. Eccolo qui. Oh, allora. Caspita che attori, che attori consumati. Questo è uno scatto molto divertente, è uno scatto che racconta un po' quello che è l'iter che di solito io utilizzo per realizzare le mie fotografie, quindi questo scatto nonostante la sua semplicità nella realizzazione perché ha durato poco tempo la parte di scatto, ha richiesto un pochino di preparazione precedente alla fase di ripresa, quindi quando ci sono degli oggetti di scena, in questo caso c'erano questi spaghetti con il piatto, i cani hanno dovuto provare la tenuta, la tenuta di un elemento sottile che può essere quello che vediamo in questo momento che è lo spaghetto, per cui è una cosa che non sono abituati a fare, hanno avuto la possibilità di provarlo, di fare tutti i loro tentativi, fino a quando non hanno acquisito confidenza con questo tipo di oggetto particolare di scena. Una volta che erano pronti, si sono presentati sul set, abbiamo preparato tutto, quindi macchina impostata, tutto quanto deve essere regolato prima perché il cane deve posare meno tempo possibile, possibilmente, perché riusciamo a sfruttare al meglio quelli che sono i suoi pochi momenti di attenzione che ci dedicano e una volta tutto pronto, hanno fatto la posa e siamo riusciti a fare questo scatto, quindi c'è sempre un po' di attività preparatoria, soprattutto per quanto riguarda la mia impronta fotografica che è abbastanza creativa, quindi io cerco sempre di inventarmi delle situazioni comunque interessanti per uscire un po' dal classico cliché fotografico che c'è. Mattia, abbiamo anche Romeo e Giulietta. Sì, esatto, anche quella è una foto interessante che abbiamo preparato, in quel caso abbiamo provato la tenuta dell'oggetto che è questa rosa e anche la posizione di appoggio delle zampe su un supporto sollevato, quindi per avere questo tipo di composizione e questa doppia posizione dei cani abbiamo fatto fare delle prove per capire se le altezze andavano bene, se tutto coincideva, insomma c'è anche qui stato un po' di lavoro preparatorio prima della fase di posa, hanno provato le pose a casa tranquillamente con i propri proprietari e poi una volta sul set, ciac si gira e abbiamo realizzato questa foto. Che cosa vuoi organizzare ora per noi, live, in diretta, con i tuoi attori, con le tue attrici? Allora, diciamo che si sono accomodati per non fare nulla, però adesso proviamo magari giustamente, si stanno riposando. Proviamo a fare posare i uke, gli facciamo fare una piccola posa della seduta, gli richiediamo l'attenzione dall'altra parte della camera, così vediamo di capire anche qual è il momento esatto in cui scattare la foto, il momento in cui il cane magari tira sulle orecchie e quindi ci dà una buona morfologia di tutta la sua sagoma, perché anche i cani hanno delle linee, hanno delle forme da raccontare, quindi alcuni cani con le orecchie basse sono meno fotogenici. Se riusciamo invece a richiamare l'attenzione, funziona di più. Glicci, dobbiamo scendere? Eh sì. Olè, 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 dai, dai. Un esperimento in diretta mai fatto in tv, credo, uno shooting canino. Arriva anche i uke. Chiara, intanto ti vorrei domandare, produrresti una mostra di dog photography? Sì. È nata un'idea, ci piace. Molto bene. Ok. Adesso Serena la chiama. Mi fai fare un resto. Sembra una versione canina di Ballando con le stelle. Eh sì, esatto. Ok, adesso lei è in attenzione, sta guardando il suo target. Brava. Eccola qui. E questi sono tutti i momenti che possono essere fotografati. Quindi sono sempre molto brevi. Abbiamo sempre poco spazio a disposizione, ma se riusciamo a capire come gestire queste tempistiche, riusciamo a lavorare. Iuka, vieni? Lei, io. Eccola. Facciamo vedere, regia, la foto numero tre. Il cane con la rosa. Sembra il nome di un dipinto. Ecco, allora, questo è un momento di preparazione alla foto che abbiamo visto prima. Quindi questa era proprio la posa che doveva fare il cane, per cui ha fatto delle prove, sono rialzo. Ha fatto la prova di appoggio, la prova della tenuta, era a suo agio e quindi dopo abbiamo messo insieme le cose, insomma. Mattia, chi sono i tuoi clienti? Chi ti commissiona questi lavori? Allora, i miei clienti sono tutti quelli che hanno un pet o un cane in famiglia. Quindi diciamo che oggi il cane in famiglia ha acquisito una certa importanza nel nucleo familiare e quindi c'è una notevole attenzione verso questo genere fotografico. Per cui la ritrattistica si è molto rafforzata e la necessità di farsi fare una foto con il proprio animale, che sia cane o gatto, è diventata veramente importante. Quindi sicuramente tutte le famiglie, ma anche chi fa attività sportiva. Non dimentichiamoci che oggi i cani fanno un sacco di cose, Agility Dog, Disc Dog, lo abbiamo visto prima. Quindi ci sono tutti questi binomi che affrontano questi campi gara, si lanciano in queste corse e in queste prese molto spettacolari, sia per il disco che per quanto riguarda l'Agility Dog, quindi il superamento di ostacoli. Ci sono un sacco di momenti dinamici molto interessanti da poter fotografare in compagnia del proprio proprietario. Quindi sono tutti binomi che si possono in qualche modo fotografare. Qual è la razza più fotogenica? Questa è una domanda a trabocchetto, non lo posso dire. Non si può dire questa cosa, perché farei un torso a tutte le altre. Secondo me sono tutti fotogenici. Ok, diciamo che ci sono... Ottima risposta. Grazie Mattia. Grazie a Jucca. Grazie anche a Chiara. Ed ora pubblicità. Poi arriverà nei nostri studi Caravaggio. Grazie a tutti.